La Sacra Corona Unita era tutt'altro che morta e sepolta, anzi la feroce organizzazione mafiosa salentina, secondo la DIA di Lecce, si era riorganizzata sotto la guida dei mesagnesi Daniele Vicentino e Ercole Penna, che avevano ereditato la guida del clan di Mesagne da Antonio Vitale, con la benedizione dal carcere dello storico fondatore Giuseppe Rogoli. Al centro delle attività illecite, secondo quanto accertato dai Carabinieri del Rosso e dal comando provinciale di Brindisi, non c'era più il contrabbando di sigarette, ma le estorsioni, il gioco d'azzardo e il traffico di droga. E così, dopo tre anni di indagini, su richiesta della procura distretto e l'antimafia di Lecce, i Carabinieri hanno eseguito all'alba un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 presunti affiliati. Tra questi anche Albino Prudentino, 59enne di Ostuni, bloccato a Valona, dove gestiva un casino. La droga, cocaina soprattutto, arrivava invece da Calabria e Piemonte attraverso le cosche calabresi. Dall'indagine denominata Calipso è emersa anche la particolare forza di intimidazione del clan, che permetteva agli affiliati di controllare il mercato dei videopoker e di estorcere denaro a commercianti ed imprenditori.